ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con salva un amico ci troviamo al parco canile val basca dell'empa sezione di como siamo qui con paola e con la dolce rose esatto ecco parliamo un po di lei sì allora rose è una nuova arrivata il nostro parco canile ed è una cagnolina di circa un anno quindi diciamo ha già raggiunto la sua dimensione massima è una cagnolina molto molto dolce anche se appena arrivata sembra non avere problemi con le persone che non conosce neanche con gli altri cani però si sta ancora ambientando un pochino timida che razza è un incrocio si esatto un incrocio tra presumibilmente un amstaff un boxer non sappiamo con esattezza però sicuramente è un meticcio è stata trovata abbandonata esatto sì 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 ecco qual è la famiglia ideale per rose allora sicuramente una famiglia che abbia un pochino di pazienza perché come ho detto è un cane piuttosto timido però oltre a quello non sembra avere particolari esigenze potrebbe andare bene anche una famiglia alla prima esperienza sempre appunto con qualche accortezza la voglia di farsi conoscere magari perché no di essere seguiti da un educatore all'inizio per avere il giusto approccio ecco è vivace di solito si dice insomma i cuccioli di un anno hanno tanta vivacità in corpo lei come si allora è giovane quindi sicuramente tanta voglia di esplorare il mondo è molto curiosa però insomma le piacciono anche un pochino le coccole lo stile di vita anche tranquillo quindi una buona via di mezzo ecco è adatta a stare con i bambini e anche con altri animali si allora appunto essendo appena arrivata non abbiamo avuto modo di testarla proprio a 360 gradi però sembra in passeggiata non avere problemi né al guinsaglio né appunto con gli altri cani i bambini vanno bene però come per ogni cane bisogna avere un pochino di attenzione assicurarsi che i bambini non facciano male al cane perché poi insomma l'incidente è un po dietro l'angolo però per il momento sembra tranquilla quindi una cagnolina molto affettuosa molto docile insomma brava anche andare al guinsaglio di che spazi ha bisogno può vivere in appartamento e fare comunque delle passeggiate all'esterno è meglio avere una casa con il giardino allora la regola è sempre più spazio c'è meglio è quindi questo sicuramente però potrebbe andare bene anche un appartamento volendo sempre avendo l'accortezza di portarla fuori un paio di volte al giorno tre volte al giorno però potrebbe andare bene anche un appartamento bene speriamo dunque che rose trovi presto una famiglia per l'adozione per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile della valbasca al numero 031 54 29 26 oppure inviare un'e-mail a canilevalbasca chiocciola gmail.com